Se volete che aumentiamo il livello di difficoltà oltre l'estremo, per il prossimo video vi chiediamo 900 like. Assicuriamoci che il livello di gioco sia estremo. Attenzione, attenzione, attenzione! Ho sbagliato! Non sottovalutarli! Ma che sto sottolineando tanto! Ma che cosa? Krikri JTV, il mondo magico di Christian. La draft del precedente video è stata annullata perché nonostante avessimo scelto livello estremo, non sappiamo per quale motivo, la partita Christian l'aveva giocata leggenda e nonostante tutto l'ha comunque vinta. Però come ad un'attenta analisi del VAR, la vittoria viene annullata, si ripete tutto, draft livello estremo e questa volta non si scherza. Scegli estrema! Ok! Abbiamo scelto estrema ragazzi questa volta, l'avete visto, qui non scherziamo, facciamo sul serio, scegli il modulo. 4, free, free, fake, 9. Ma non hai l'att, ne hai uno solo. Eh vabbè. Quindi il modulo scelto è il 4, 3, 3, 3, falso, 9. Quanto 3 hai detto? Non lo so. Andiamo avanti con il primo giro di carte. Oh, non guardare, non guardare, che qua è tutto sballato. Non guardare. Aspetta. Primo giro di carte, la tengo o la scarto? Dammi a me il joystick. No. Rebic, lo tieni o lo scarti? Allora, l'ultima volta me la sono giocata male, perché volevo fare Spagna e Inghilterra. Stavolta vado avanti. Scarto. Vai avanti. Puoi scegliere questa volta la 2, la 3, la 4 o la 5? La 4. Sceglie la carta 4, Foden. Quello prendo. Aspetta, aspetta, aspetta. Sei sicuro? Sì. Sicuro? La accendiamo? No. No? No? Come mai dici no? La tua faccia non è sempre convinto. L'apro la 2. Io non dico niente. Vuoi la 2? Sì. Proviamo la 2. Verón. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Lo prendo. Prendi, Verón? Sei sicuro? Sei sicuro? L'accendiamo? Sì. Sicuro? Cos'è un CC? Ce l'ha il CC? Sì. Ok, prendi il CC. Andiamo a vedere però che cosa lasci. Lasci. Riccardo Carvaio. Vabbè. E vediamo la numero 3. Chi era? Giazzino! Ma ce l'avevi, Ladd? Sì. Sì. Giazzino era forte. Vabbè, però, anche Verón, centrocampista, non è male. La 4. Carta numero 4. Uh, ma che lei! Ok. Io non so, io non so, eh. La prendi subito? Sì. Vabbè, dai. Ho sparato a caso. Andiamo a vedere che cosa scarti. Scarti la quinta. Uh, scarti l'am. Ma qua cavolo, sono tutte icone. scarta AOLU, scarta Casemiro, scarta Marcon. Vabbè, dai, con Maxelle, le, francese. Abbiamo già tre punti a casa. La 5. Aspetta. Ok. La 5. Apriamo la 5. La prendi o lo scarti? La 4. Sicuramente la scarta. Quarto. La 2. La 2. Scarta la... No, scherzo, la prendo. Prendi Bellingham. 95, cavolo, stavi scartando... Non me ne ho reso conto, ma stavi scartando un Toti. Vai, la prendo. Andiamo a vedere, per curiosità, chi hai scartato? Scartato la 3. Era Benasser, Rodriguez e Uribe. Ottima scelta. Gioca in Germania? Sì. Quindi devi orientarti sul campionato... Tedesco. Tedesco? No. Non era quello il mio obiettivo. Vabbè, se ti è capitato quello, però... La... 4. La 5. Zincenio. No, lo prendo. Però gioca in Inghilterra, mi sembra. Sei sicuro? Lo vuoi prendere? Sicuro? Io non lo so, eh. Sì. Ok, prende Vincenco e scarta. Nugno Mendez. Va bene. Però, vabbè, era solo 86 di overall. Bensebaini, Alex Telle e Mendy. Hai preso, a quanto pare, il migliore. Ottimo, ottimo. Chiudiamo le carte e andiamo a fare il nuovo giro. Chi scegli? La 1. La 2. Ah, questi qua, il giro è scarso. La sera, la prendo. Prende Martinez, del Manchester United. E scarta, a che, del Manchester City e Vida. Migliore. Ha preso il migliore tra i peggiori. Sto scegliendo tutti i migliori per adesso. La 1, la 1. Apriamo la 1. Varane, Manchester United. La prendo. Sicuro? Sì. Sicuramente farà intesa perché hai già uno del Manchester United. Però non è quello scarso. Sì, però ho anche un francese. Ho l'icona francese. 88 di overall. L'accendiamo? Sì. Vediamo chi scarta. Fofana. Vabbè. Scartato. Ho scelto il migliore. Chi è? Ok. Scartato. Non mi serve. Non mi serve. Lucio. Scartato. Lucio è uno dei più forti, eh. Ed era anche una carta speciale e ti dava 3 punti di intesa. Peccato. Vabbè, non mi serve. E un Pemecano. Ho scelto il migliore. Ma, mica tanto. Vabbè, andiamo avanti. Straintesa perché lui faceva poca intesa. Vabbè, che un francese è gioca in Inghilterra però fa poca intesa perché lui è francese e gioca nel Manchester United e ho tutte e due. Poi lui della Danimarca non ne ho nessuno. Della Serie A team non ho nessuno. Del Milan non ne ho nessuno. Del Brasile non ne ho nessuno. Della Germania ne ho solo uno. Del francese ne ho uno ma il campionato germanico ne ho uno. E del Bayern Monaco non ne ho nessuno. Perfetto. Chiudiamo tutto e andiamo col prossimo giro di carte. Scegli il tuo numero. 3. Apriamo la 3. 4. Giro scarso questo. 5. Lo prendo. No, la 2. La 1. Obbligato a prendere la 1. No. Gioca in Francia, nel Lione. Niente. Carta scarsa, giro scarso. Chiudiamo tutto e andiamo avanti. Dai. Puskas mi capita sempre quando faccio sta scelta. La 3. Adesso mi capita Puskas. Apriamo la 3. Sono sicuro che mi capiterà Puskas. Allora, la 4. La 2. Scarta la 4. Wils. Apriamo la 2. Pox. La 5. Scarta anche queste. Apriamo la 5. Dibala. Della Roma. At. Stavolta lo prendo. Stavolta lo prendi? Sì. Però non hai giocatori della Serie A. Però un argentino o di squadra. Vabbè, allora dai, magari ti può servire. Vediamo cosa scarti. Cavani. Scartato. Andiamo con Dibala. Ma no, ma di nuovo. Lasci la rosa scoperta. Sì, perché mi copitano le icone quando faccio sta cosa. Non ti ricordi nel primo e secondo episodio dove ho trovato Puskas, Pelé, Cruyff. E come si chiama quello francese? Ronaldo. Però Maradona non mi è mai capitato. E il portiere l'hai preso? No. Ovviamente. Chiudiamo le carte e andiamo col prossimo giro. La 3. Apriamo la 3. La 4. Kluiver. Dammi tempo di capire chi sono. La 4. Scarta la 3. Kluiver. Prendiamo la 4. Ok. Gullit. Anche Gullit. Mi esce. La prendi. Eh beh dai non puoi prendere. Gullit nella precedente draft ha proprio fatto lì il disumano. Non era umano. Non era umano. Prende Gullit. Poi mi esce anche Eusebio. Poi mi esce. Come si chiama quello? Quello lì francese. Quell'icona. Che inizia mi sembra con. Gialzigno? No. Quello è il brasiliano. Non mi viene in mente. Ah beh poi mi verrà in mente. Sono sicuro. Scarta. Donovan. Scarta. Davies. E scarta file. No ma è il mail. Andiamo avanti. Chiudiamo tutto. E vamos. Scegli la tua carta. La 5. Salah. La prendo. Eh mi Salah. Alla destra. 93 di Hollywood. Cos'è? Hollywood. La chiamiamo Hollywood. Allora l'accendiamo Salah? Sì. Ok vediamo chi hai scartato. Hai scartato Van Dijk. Era un 96 Toti. Peccato. Ottimo difensore. Hai scartato Olmo, Dani Olmo, Adnams e Robles. Va bene. Magari mi ricapiterà. Salah. Sì. Magari sì. Prendiamo Salah. Lo metteremo lassù. Ti sarebbe servito Van Dijk perché qui nella difesa ne hai uno scarso. Eh no. Non posso cambiare la difesa. No? Eh no. Perché questo fa intesa con questo. Perché giocheranno tutte e due nel Manchester United. L'argentino. Poi lui che è argentino fa intesa con l'argentino questo in campo. E lui che è francese fa intesa con questo francese in campo. Ho capito. Vabbè. Andiamo avanti. Giro di carte. Scegli la tua carta da scoprire. Apriamola a due. Montiel. Uno. Ah sì. La tengo. Tieni Montiel. Sì. Mi serve un terzino destro buono. Perché ho quel scarso lì. Che non serve a niente. Sì. È ottimo ragionamento e anche se ha un over o il basso comunque è sempre più alto di quello che hai. Ed è argentino però gioca in Spagna mi sembra. Sì. Però intanto fa intesa con l'argentino. Vai. Accendo. Prende Montiel e scarta. Tavernier. Vabbè. Scarta. Arslan. Vabbè. Vabbè. Over. E Bruno. Gemare. Scavolo. Ma non era un terzino era un centrocampista. Però 93 funzionava eh. Tanto non aveva nessuno per cui cambiare. Ah infatti. Perfetto. Terzino destro e lo vado a cambiare subito. Da. 14 possiamo a? 14. Ok. Aspetta 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 aspetta. Non ce la fai. Ma 4. Dunfrey. La 2. Smalling. Cos'è un Ticino? La 3? Però potevo prenderlo perché è inglese e poi della Roma c'è... Ah però di Vala viene sostituito da Gullit. Ok. Prendo la 3. La 3 sono sicura. Scherzavo. Prendo la 5. Apriamo la 5. La 1. Ambarama. E allora portarti a casa la 1. Diallo. Vabbè. Chi apriamo? La 1. La prendo. Tagliafico. No. Scherzavo. La 3. La prendo. Scherzavo. La 2. Apriamo la 2. Zaccaria gioca nel Cesare. Scherzavo. La 4. La prendo. Apri la 4? Sì. Donna Roma. La prendo. Portiere Donna Roma del Paris Saint Germain. Cos'è la 5? La 5 che hai scartato era Donovan. Di nuovo. Andiamo avanti. La 3. E la prendo sicuro. Ma dai non puoi dirlo subito. E scherzavo. Diallo Iota. No la prendo la prendo. Perché? La prendo vedrai. Vabbè. Scarta. Esce Raui. Vabbè. Scarta. Ball. Non mi serve. Scarta. Aspetta. Ball. Gioca in Inghilterra. Cos'è MLS? Campionato americano. Ah. Scarta la prima. Ora del Piero. Vabbè. Non mi serve. Non ti serviva. Hai già a Gullit. Quindi Diego Iota è il migliore. Diego Iota. Quale carta apriamo? No. 5. Winmer. La tieni o lo scarti? La scarto. La 1. La 1. Apriamo la 1. Quit. La tieni o lo scarti? Lo scarto. La 2. Apriamo la 2. Smith Rowe. Lo tieni o lo scarti? Esterno sinistro. Non ce l'hai. Non ti serve. Lo scarto. Lo scarta. Apriamo la 3. Coman. Esterno sinistro. Di nuovo. La 4. Sei obbligato a portarti via la 4 allora. Co. 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 Ce l'hai il Co. 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 Si preoccupato dal francese. Però la tengo in panchina. Certo. Quale carta scegli? La 1. Apriamo la 1. La 2. Scarta Marquez. Scarpiamo la 2. Pires. Esterno sinistro. Non ce l'hai. Ma ecco. Il francese. E poi mi capita anche il francese. Cantona. Cantona è vero. La 3. Apriamo la 3. Fernando. La 4. Avresti bisogno di un difensore forte. No. Perché no? T'ho già detto. Ah ti tieni quello scarso. Eh ma fanno intesa. Ok. Apriamo la 4. Forsberg. E la 5. Allora ti porti a casa la 5. Payette. La vera se prendevo l'esterno sinistro. Ok. Andiamo avanti. Intorno gli occhiali perché ho fatto una scelta brutta. La 2. La 3. Nagatomo. Lo scarti. Apriamo la 3. Marquez Alonso. Apriamo la 1. Perché scarta Alonso. Nuno Mende. Sasa. 93. Però questo ti può far salire l'intesa. No l'intesa. La valutazione. La 4. Lo scarta. Apriamo la 4. Lime. Lo prendo. Fino a destra. Lo prendo. E io faccio così. Ah no. Sì. Scherzavo. Mi sale più 2. Pum. Non possiamo vedere chi hai scartato? Meglio così. Era il migliore. Mi rimetto gli occhiali. Ragazzi. Se volete che aumentiamo il livello di difficoltà oltre l'estremo. Per il prossimo video vi chiediamo 900 like. Andiamo avanti con il prossimo giro. Di carte. La 3. Apriamo la 3. La 2. Apriamo la 2. La 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 la. La 4. Scarta tutto. Apriamo la 4. La 1. Scarta tutto. Apriamo la 1. La 5. E ti porti a casa la 5. trimmer che non te ne fai niente quale carta apriamo la 2 a 4 se neanche l'hai visto già prima 4 scarta quello a 1 scarta giusessa la tiene lo scarti cobel aprendo prende cobel il portiere in sostituzione a donna ruma vediamo che è scartato sa il altro portiere e di gregorio e ora andiamo avanti col portiere la 3 5 5 5 5 apriamo la 5 biso era meglio si apriamo la 3 di gregorio di nuovo scarta di gregorio apriamo la 4 a 2 scarta vicario apriamo la 2 chi è questo trubin scarta tutto e ti porti a casa qualunque cosa sia la 1 cil e sen che gioca in olanda proprio non c'entra niente con questa rosa ti metti in porta lo svizzero mette in porta lo svizzero e noi andiamo attaccante sinistro la 4 apriamo la 4 la 3 apriamo la 3 un vinicius prendo lo prendi si farà zero intesa e perché gioca in spagna e basta lo prendi lo stesso prende vinicius voglia andiamo a vedere andiamo a vedere chi scarti apro la 2 raffaella ok apriamo la 1 pepe ok apriamo la 5 nunez forse nunez faceva più intesa ma vinicius è più forte la scelta più peggiore della mia vinicius zero intesa comunque è forte devo prendere lo sapevo devo prendere nunez allora voglio solo più fare una cosa diego iota scelgo te grazie diego iota mi ha salvato la vita attaccante adesso ha messo diego iota al posto di vinicius vabbè la 4 la 2 anzi la 4 diviso 2 carta apri la 4 diviso 2 ovvero la 2 apri la 2 sacca la prendo prendi sacca ho solo 85 si aprimi la 2 alla 1 cosa apro 2 alla 0 fa 1 bravo sacca lo prendi si ok prendi sacca apri la 2 alla 0 scarta pine steel scarta la 3 apri la 2 alla seconda 4 scarta la 4 scarta la board e scarta anche la quinta a mares vabbè sacca la 5 alla prima dai vai con sacca andiamo avanti ti manca l'attaccante centrale la 2 alla quarta 2 alla quarta fa e fa troppo fa 2 per 2 4 per 2 8 ha sbagliato volevo dire due alla seconda allora apriamo la numero 4 vlasic la 2 la 0 apriamo la 1 verdi la 2 alla prima apriamo la 2 lasovic scarti tutti la 3 buffal lo tiene lo scarti lo scarto apriamo la 5 tra porti a casa benzema che convinisci us magari un po di intesa sempre real madrid o gullit ha già ai gulli da mettere lì poi lo sarà da mettere in attacco destro che te ne frega se abbassa un po di intesa oli o tieni l'intesa te poi li metti a inizio partita di sostituisci subito però ti devi ricordare se tolgo il portiere chilenza ok poi potrei togliere anche montiel tolgo paillette ovvero a paio ok però 29 d'intesa non male e 90 di valutazione ok questa è la squadra quel difensore centrale così scalso che mi fa paura mi fa paura un pezzo importante il punto il pezzo debole della difesa è il pezzo più importante che ho visto ok questo è una vita di balle un difensore io lo metto qua vai vi toglie un argentino è una premier league si si hai ragione hai ragione allora sei pronto per la partita no mi manca l'allenatore se non non posso essere l'allenatore allora vediamo un po quale allenatore dovresti trovare in inghilterra primo portoghese questo gioca in portogallo o uno questo non è portoghese questo è portiere allora mi servirebbe uno che insegna o in inghilterra per l'attaccante sinistra oppure che insegni in germania così mi alza il portiere e il centrocampista esatto esatto andiamo agli ready i am ready for take my mister ok vanno quale apriamo la 3 no più allena in italia nella serie a 4 apriamo la 4 e tedesco ma insegna allena in danimarca 5 no 5 allora no da due a uno e speriamo in questo anzi si è obbligato a prendere questo un allenatore non ti cambia niente cambia niente posso prenderlo ragazzi vabbè dai perché esser allenati da un indiano mamma mia però c'era sarà che non indiano hanno egiziano egiziano quindi posso prendere quello che voglio perché tanto nessuno mi cambia la vita se prendi questo non inglese a nome inghilterra qua 5 addirittura in quinta divisione vabbè prendi quello che vuoi tanto non cambia prenderò più o l'inzion fire la 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 più o l'inzion fire la 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 119 la valutazione più o l'inzion ferie la 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 più o l'inzion ferie la 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 adesso non volevo risultare qualcuno qualcuno i milanisti però anche cantato più o l'inzion fire quindi potete allora era l'agenda era estrema il livello si vedeva la allora aspetta aspetta allora assicuriamoci che il livello di gioco sia estremo quando inizi a giocare la partita viene scritto in alto vai ok ragazzi guardate leggete bene estrema questa volta il gioco non è bagato leggete bene quassù estrema sei minuti il tempo è sereno si inizia la sfida 900 light per aumentare il livello faremo in a draft ben dati ben dati io faccio così mi avvicino gullit ancora gulli se avvicino a portare cavolo ci rifacciamo ci rifacciamo perché io vado indietro arriva il portiere il portiere cavolo ecco 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 va a mio capito non so fare i pallonetti sembrano non troppo forti ci sono dei coreani c'è chi c'era un kim 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 naso lin e kim dai dai partita cosa fai prende il giusto ti vengono addosso a livello estremo ragazzi qui lui sta regolando il volume e dove regolare il volume o pazzesco guarda che sono estremi e questi questi qui non scherzano anche se sono coreani attenzione attenzione ai coreani estremi attenzione 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 non sottovalutarli ma chi li sta giustando ma che cosa non sei uscito col portiere non ho capito niente non dai non puoi farti battere da una squadra di coreani non è il calcio migliore anche se sono simpatici ok gulli attenzione a questi litigliecchiaie attenzione attenzione ma fai un sacco di fitte è possibile a batterli attenzione 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 al portiere ma no ma no ma no ma no ma questo gioco fa schifo punteggio che è cambiato ora conducono per cui reti a zero è di culo dai dai scherzavamo ti puoi rifare ti puoi rifare ok ok secondo me li abbiamo sottovalutati all'inizio non dovevamo sottovalutarli dai dai che ormai si sono indeboliti li hai già stancati perché si sono stancati puoi recuperare la grande abbiamo tutto il tempo siamo solo all'inizio mamma mia no ma mamma mia ragazzi ma era dentro non l'hanno visto ma era gol è quello là bene bene vedi che adesso li stai tenendo sotto controllo non ti attaccano più ah sì un po' sì no mamma mia ragazzi abbiamo preso il terzo gol dai che hanno perso la palla prendila ma mia che fortuna che fortuna cristian è concentratissimo con veron attacca sacca sacca ma perché sacca e non hai quell'altro salà cambia metti salà metti salà cri metti più forti metti salà metti vinisius tanto l'intesa te la tiene metti salà metti vinisius in squadra fagli entrare ti svoltano la partita abbiamo bisogno del supporto di salà e di vinisius li hai in panchina hai l'attaccante sinistro e l'attaccante destro che non sono abbastanza forti li hai in panchina quelli decisivi non capisco perché non li vuoi mettere perché mi ignori i cri li metti nel secondo tempo? concursione sulla traversa e poi sul fondo l'aveva calciata bene pier niente da dire può prendersela solo con la sfortuna intercetta bene il passaggio e sei no questa volta ha sbiellato ragazzi 900 like se volete aumentare il livello anche se però la vedo dura 900 like lo stesso ciao grazie come premio di consolazione prendiamoci un pacchetto tots league one e se esce una carta buona lo faremo presente a cri domani abbiamo il 5% di possibilità di trovare un tots vediamo se la fortuna ci assiste 15.000 crediti confermiamo e il tots non c'è 15.000 crediti buttati via per C-Well però aspettate abbiamo due carte da scoprire uno dei due tots league presente forse sono buone andiamo con la prima wow peccato che sono in prestito prendiamo Fofanà 100% Fofanà vediamo la seconda tots in prestito di nuovo Fofanà e a questo punto prendiamo Klaus e tutti gli altri non li possiamo neanche vendere ce li dobbiamo tenere così che delusione grazie a tutti grazie a tutti